Andare in bici a Napoli è un'esperienza unica, non trovi? Non perdere la quarta edizione del Napoli Bike Festival Dal 5 al 7 giugno alla mostra d'oltremare Troverai bike tour, ciclomeccanica, area bimbi, bike challenge, laboratori, pump track, bicaccia, spettacoli acrobatici e tanto altro Seguici su Facebook, pagina web napolibikefestival.it Napoli a pedale, tutta nata storia Grazie a tutti